Siamo a Taranto in Viale del Tramonto, spesso noi sottolineiamo, evidenziamo la incapacità amministrativa di chi ci governa, però poi bisogna non solo pensare alla classe politica ma anche a noi stessi e quindi stigmatizzare certa inciviltà da parte dei cittadini. Qui in Viale del Tramonto abbiamo purtroppo un bel cumulo, anzi un brutto cumulo di gomme, come per auto, abbandonate, un frigorifero, di tutto, di più. Irene Lamanna, presidente dell'ATT, associazione Taranto Turismo, questi incivili vanno bastonati in senso ovviamente metaforico, senza se e senza ma. Assolutamente sì, è ovvio che deve essere importante una comunicazione e un intervento immediato sul rapporto di inciviltà del territorio. Qualche residente ha pensato bene o male di farsi un po' giustizia da sé, appellando il... Appellando un'espressione certamente volgare, però quando ci vuole ci vuole. È indubbiamente forte e anche questo non è che ci faccia fare proprio una bella figura dagli occhi di chi ci visita, però è indubbiamente, ha cercato di dare il suo contributo al suo modo vista l'assenza di determinate punizioni a carico di chi commette determinati reati. Sanzioni proprio. Sanzioni, perché comunque in questo caso si tratta di un reato proprio ambientale, quello di lasciare insomma delle gomme... Per le particelle che si sprigionano nell'atmosfera e i danni ai polmoni. Esattamente, poi magari questa è gente che in altre sedi, in altre occasioni, si professa ambientale o ambientalista e poi commette insomma questo scempio per la città, come quello che vediamo anche più avanti del frigorifero lasciato così sul lungomare del viale del tramonto. Sarebbe bello magari fare proprio degli appostamenti coordinando tutte le forze dell'ordine nei punti caldi dove si scarica di tutto, di più. Sì, diciamo che questo viale del tramonto dovrebbe essere più attenzionato, io direi anche in maniera borghese dalle forze dell'ordine, non solo per questo scarico di immondizie, di spazzature e di ingombranti, ma anche per altri tipi di traffici che si possono verificare su questo litorale. Grazie.